Quindi ci pare che questo pezzo fosse cantato solo una volta interamente, cioè nel 1957, trasmesso dalla RAI, la prima parte fu cantata anche nel 1958, però ci pare da quel punto non è mai stata sentita né a Roma né in Italia. Più ci pare che Elgar stesso è venuto a San Paolo fuori le mura durante il pomeriggio del 10 dicembre 1907, quindi è stato proprio qui dove facciamo questo storico concerto.